La conservazione degli alimenti. Definizione. Sfruttano tecniche che rallentano o bloccano il naturale processo di deperimento degli alimenti, creando condizioni sfavorevoli allo sviluppo di microrganismi e distruggendo la carica microbica. Fattori ambientali favorevoli ai microrganismi. Per potersi moltiplicare in un alimento, i microrganismi, devono trovare fattori ambientali favorevoli, quali Una certa temperatura, generalmente le alte temperature li distruggono e le basse bloccano la loro riproduzione. Una forte umidità. Acidità non troppo elevata. Un certo grado di ossigenazione, tenendo presente però che vi sono germi anaerobi, capaci di riprodursi in assenza di O2. Metodi di conservazione. Metodi fisici. Utilizzano caratteristiche fisiche per impedire l'alterazione del cibo, caldo, freddo, radiazioni eccetera. Modificazioni chimiche, sono alla base dei metodi chimici, aggiunta di zucchero, alcol, eccetera. Metodi fisici di conservazione. Con le basse temperature. Refrigerazione, più 4 gradi centigradi. Congelamento, sotto zero. Surge l'azione o congelamento rapido, in meno di 4 ore. Refrigerazione. Gli alimenti sono raffreddati a una temperatura leggermente al di sopra degli 0 gradi centigradi, circa più 4 gradi centigradi, in modo da non congelare l'acqua presente nell'alimento. Il frigorifero domestico è l'esempio più diffuso di apparecchio refrigeratore. La temperatura di più 4 gradi centigradi del frigorifero comporta un rallentamento dei processi di alterazione, per cui la conservazione è limitata nel tempo. Congelamento. La temperatura dell'alimento viene portata, in diverse ore, al di sotto di 0 gradi centigradi. L'acqua contenuta nelle cellule congela e si formano cristalli di ghiaccio voluminosi, che rompono le pareti cellulari, alterando i tessuti. Durante la fase di scongelamento l'acqua che sgocciola porta via con sé una parte delle sostanze nutritive. La qualità dell'alimento peggiora e diminuisce il suo valore nutritivo, soprattutto se il congelamento e lo scongelamento vengono ripetuti. Il congelamento permette di conservare gli alimenti molto più a lungo rispetto alla refrigerazione, esempio carne o pesce. Surgelazione. L'alimento è posto in un ambiente molto freddo, meno 30 gradi centigradi, meno 50 gradi centigradi, affinché il congelamento completo si realizzi in tempi brevi. Si formano cristalli di ghiaccio con struttura fine e regolare, che non danneggiano le cellule, l'alterazione dell'alimento e le perdite di sostanze nutritive sono minime. I surgelati vanno conservati a una temperatura di meno 18 gradi centigradi, deve essere rispettata non solo nel periodo di conservazione, ma anche durante il trasporto, catena del freddo. I congelatori a uso familiare, se contrassegnati da una sola stella, meno 6 gradi centigradi, possono conservare i surgelati per una settimana, quelli con 2 stelle, meno 12 gradi centigradi, per un mese, con 3 stelle, meno 18 gradi centigradi, per 3 mesi. Occorre evitare oscillazioni di temperatura eccessive e lo scongelamento durante la conservazione. Se scongelati, i surgelati devono essere subito consumati. Non è consigliabile ricongelarli dopo lo scongelamento, perché si sono realizzate condizioni favorevoli allo sviluppo microbico. Alimenti congelati o surgelati vanno confezionati in involucri impermeabili all'acqua e ai gas, per evitare la disidratazione, l'ossidazione, la contaminazione e la perdita degli aromi. Alte temperature. Il calore inibisce gli enzimi e distrugge i microrganismi, tuttavia, può causare la degradazione di sostanze nutritive contenute nell'alimento, proteine e vitamine. Pastorizzazione. Bollitura. Sterilizzazione. Pastorizzazione. Avviene a temperature relativamente basse, 65 gradi centigradi per 30 minuti o 72 gradi centigradi per 15 secondi o 80 gradi centigradi per 3, 4 secondi, per cui gli alimenti subiscono deboli alterazioni. Non tutti i microrganismi sono distrutti e la conservazione degli alimenti pastorizzati è limitata nel tempo, infatti si ottiene la completa distruzione di tutti i microrganismi patogeni ma sopravvivono alcuni microrganismi e alcune spore. Il latte pastorizzato deve essere conservato in frigorifero e consumato in 3, 4 giorni. Bollitura. Provoca danni maggiori all'alimento, perché la temperatura a cui esso viene portato è superiore, 100 gradi centigradi. Non permette una conservazione prolungata, perché non vengono distrutte le spore. Tuttavia con la bollitura è possibile eliminare tutti i microbi patogeni. Il latte appena munto, non pastorizzato, va bollito, perché potrebbe contenere germi patogeni. La bollitura rende potabile l'acqua in seguito a eventi disastrosi, terremoti, alluvioni, eccetera. Se il latte è pastorizzato, la bollitura è inutile, perché i germi patogeni sono già stati distrutti, anzi è da evitare perché comporta la perdita di principi nutritivi. Sterilizzazione. Per eliminare tutti i germi e le spore, l'alimento deve essere riscaldato a temperature superiori, 121 gradi centigradi col vapore o 140 gradi centigradi col calore secco. La perdita di sostanze nutritive è maggiore, ma è possibile conservare più a lungo l'alimento, anche fuori dal frigorifero. L'alimento sterilizzato va conservato in una confezione chiusa ermeticamente, per evitare l'ingresso dei microrganismi esterni. Dopo l'apertura della confezione, la sterilità non è più garantita. La sterilizzazione del latte, ottenuta con metodo UHT. Oltre ai temperature, consente una lunga conservazione, fino a tre mesi, anche fuori dal frigorifero, se la confezione viene aperta, il latte non sarà più sterile e andrà conservato in frigorifero e consumato entro due, tre giorni. Radiazioni. Mediante i raggi gamma è possibile sterilizzare un alimento già confezionato, poiché le radiazioni attraversano la confezione e agiscono all'interno dell'alimento. Le radiazioni sono definite ionizzanti poiché allontanano gli elettroni degli atomi che colpiscono, generando ioni o radicali. In questo modo si danneggiano molecole biologiche vitali, causando la morte dei microrganismi e consentendo la conservazione dell'alimento. In Italia l'uso delle radiazioni negli alimenti è consentito solo a scopo antigermogliativo per patate, aglio e cipolle. Disidratazione. Riducendo il contenuto di acqua di un alimento, disidratazione, è possibile conservarlo più a lungo. Le attività degli enzimi e dei microrganismi possono infatti svolgersi solo in presenza di acqua nell'alimento. Gli alimenti a basso contenuto di acqua, come pasta cruda, legumi secchi ecc. possono conservarsi a lungo anche a temperatura ambiente. Essiccamento. Liofilizzazione. Salatura. Essiccamento. In seguito a riscaldamento, l'alimento perde quasi tutta l'acqua per evaporazione. Si sfrutta la semplice esposizione al sole e all'aria, o tecnologie più complesse, come ad esempio quelle per ottenere il latte in polvere. Liofilizzazione. Il contenuto d'acqua è ridotto al 2,5% e il prodotto si presenta sotto forma di polvere. L'alimento è prima congelato sottovuoto, per solidificare l'acqua che contiene, in seguito è riscaldato con delle piastre che portano direttamente l'acqua dallo stato solido, ghiaccio allo stato di vapore, sublimazione. Con la sublimazione è possibile sottrarre più acqua dall'alimento rispetto alla semplice evaporazione. La salatura. Il sale è una sostanza igroscopica, ossia tende ad assorbire l'acqua. La salatura in superficie è spesso associata all'essiccamento per conseguire una migliore disidratazione. Il sale presenta inoltre un'azione antisettica. Metodi chimici di conservazione. L'aggiunta di alcune sostanze chimiche blocca lo sviluppo dei microrganismi, impedendo o rallentando l'alterazione degli alimenti. Esempi, sale, zucchero, olio, aceto. Conservanti, eccetera. Salatura e affumicatura. La salatura è un metodo di conservazione antichissimo basato sull'azione disidratante del sale. Anche l'aggiunta di spezie, esempio il pepe, esercita un'azione conservante. Nella fumicatura le sostanze liberate dai fumi della combustione, in particolare l'aldeide formica, sono responsabili dell'azione conservante. La fumicatura può essere. 1, a freddo, corrente di fumo a 30, 35 gradi centigradi per alcuni giorni o settimane. 2, a caldo, l'alimento è posizionato vicino alla sorgente del fumo, a circa 100 gradi centigradi, e in parte viene cotto. Salamoia e aceto. La salamoia è una soluzione di acqua e sale, che blocca lo sviluppo di alcuni microrganismi e ne favorisce altri, che conferiscono all'alimento determinate caratteristiche organolettiche. Gli alimenti conservati in salamoia devono essere risciacquati, per evitare eccessive assunzioni di sale. L'aceto aumenta l'acidità degli alimenti. Le concentrazioni di aceto tollerabili non sono in grado di impedire lo sviluppo di alcune muffe, che, in presenza di ossigeno, fermentano l'acido acetico e riducono l'acidità dell'alimento. In questo modo si possono sviluppare sostanze tossiche. Durante il confezionamento va evitato il contatto con l'aria e l'alimento va sottoposto a un lieve trattamento col calore, per distruggere i microbi presenti. Zucchero e olio In concentrazioni elevate, maggiori del 50%, lo zucchero blocca la proliferazione dei microrganismi. È impiegato nella conservazione della frutta. Marmellate, canditti, gelattine, o del latte, latte condensato. L'olio non ha azione sui microrganismi presenti nell'alimento, lo isola dall'aria e previene la contaminazione da parte di germi provenienti dall'ambiente esterno. Nella preparazione è consigliato un pretrattamento termico e una profonda pulizia di alimento e contenitore. Additivi chimici Sostanze prive di potere nutritivo e impiegate a scopo non nutritivo, che si aggiungono in qualunque fase della lavorazione alla superficie o alla massa degli alimenti, per conservare nel tempo le caratteristiche chimiche, fisiche o chimico-fisiche, per evitarne l'alterazione spontanea o per impartire a essi particolari caratteristiche organolettiche, sapore, odore, aspetto e consistenza, di M31 marzo 1965. Esempi di additivi chimici Antimicrobici, acido benzoico, sorbico e loro derivati, i nitriti e nitrati, che vengono generalmente aggiunti agli insaccati per impedire lo sviluppo del Clostridium botulinum. Il loro uso è aumentato soprattutto perché presentano la proprietà di mantenere il colore rosso delle carni, in particolari condizioni, possono dare origine a nitrosammine, sostanze cancerogene. Anidride solforosa, viene aggiunta al vino per il suo effetto antimicrobico. Esercita anche una funzione antimbrunimento e permette il mantenimento del colore dei vini bianchi. Anche i solfiti presentano un'azione antimbrunimento di cui spesso si avvalgono alcuni commercianti di carne per conferire un colore vivo e un aspetto fresco. Antiossidanti, evitano l'irrancidimento dei grassi. Alcuni sono naturalmente presenti negli alimenti, le citine, eccetera, altri sono invece prodotti di sintesi. L'irrancidimento provoca alterazione delle caratteristiche organolettiche dell'alimento, olio o grasso, e perdita del valore nutritivo. Atmosfera protetta. Per conservare più a lungo gli alimenti è possibile sottrarli all'azione dell'ossigeno. Si utilizza una miscela di gas di composizione diversa rispetto a quella atmosferica, ad esempio, azoto 92, 95%, ossigeno 3, 4% e anidride carbonica 2, 4%. L'azoto è un gas inerte che non consente la proliferazione batterica e svolge un'azione di preservazione nei confronti degli irrancidimenti. È utilizzata nelle celle frigorifere. Atmosfera modificata. La composizione dei gas immessi cambia a contatto con l'alimento per le interazioni reciproche e non c'è modo per mantenerla costante come nel caso dell'atmosfera protetta. La composizione atmosferica più adatta è scelta in base al tipo di alimento. L'atmosfera modificata è un metodo di conservazione adatto agli alimenti refrigerati ed è da evitare nel caso di alimenti da pastorizzare o da cuocere sottovuoto. Confezionamento sottovuoto. Si pone l'alimento in un involucro di materiale plastico e si aspira l'aria. Vengono impiegate macchine confezionatrici sottovuoto, utilizzabili anche in ristoranti e nel catering. Gli alimenti possono essere confezionati crudi o cotti sottovuoto. Ripassa la mappa del capitolo.